I problemi non mancano e quindi vedremo di essere il più vicini possibile. So che alcuni problemi sono in via di soluzione. Sì, le soluzioni ci sono e credo che una nostra collaborazione non potrà far altro che accelerare questo processo. E quindi vediamo che sia l'inizio di un percorso utile non solo a entrambi ma soprattutto a due milioni di residenti e ad alcuni milioni di fruitori esterni alla città. Assolutamente. Tutta questa insistenza sui campi rom e sulla soluzione da trovare per gli insediamenti dei nomadi può portare secondo lei a un'ulteriore discriminazione nei confronti della popolazione rom? No, noi chiediamo semplicemente parità di diritti e di doveri. Quindi bruciare elementi tossici che avvelenano i concittadini non fa parte di qualcosa che è previsto dalla legge. I figli vanno mandati a scuola, le auto vanno assicurate, bisogna lavorare e compilare una dichiarazione dei redditi. Io ricordo che le presenze rom in Italia superano le 150.000 persone e i problemi di cui stiamo parlando sono limitati a 30.000 persone circa che si ostinano a vivere nei campi. E quindi su questa sacca minoritaria di resistenza parassitaria, potrebbero essere svedesi, finlandesi o esquimesi, noi supportiamo le attività dei sindaci che riguardano anche il riconoscimento evidentemente non etnico ma soggettivo di chi vive in questi campi. Le polemiche delle scorse settimane sui censimenti, io come faccio ad aiutare qualcuno se non so chi è, come si chiama, di che nazionalità è, quanti figli ha e cosa fa nella vita. Al Ministro se la sentenza della Corte Europea su Camping River la vive come un'intromissione. È una Corte curiosa quella che ci mette alcuni anni per arrivare ad alcune sentenze e ci mette una manciata di minuti per rispondere ad altre sollecitazioni però questo fa parte dei giudizi soggettivi. A me interessa il risultato finale quindi sicuramente non sarà la Corte Europea di Strasburgo a bloccare il ripristino della legalità voluto da un tribunale italiano peraltro sul territorio del Comune di Roma e mi sembra che tutto procederà come da programma. Ricordo solo in chiusura che su quel campo ci sono anche problemi di ordine igienico-sanitario per cui non si può soprassedere oltre.